Oggi pomeriggio c'è una tavola rotonda, tra pochissimo, la plenaria sul tema della qualità. Come si può operare assieme sulla qualità? O meglio, la qualità è una chiave di volta per tutti, fondamentale immagino. Oggi si parlerà di questo. La tecnologia nostra è una tecnologia che ha una vita molto lunga, non è come l'elettronica, che l'elettronica di tre anni fa è già obsoleta. Le pomigranage si fanno così dagli anni 30. E quindi i miglioramenti tecnologici, le qualità delle prestazioni e le qualità del prodotto sono una sfida enorme, una sfida vitale per essere competitivi a livello mondiale. E se siamo competitive è proprio perché noi eccelliamo nella qualità della performance del prodotto ma anche del prodotto stesso, delle tecnologie che sono dentro al prodotto. Io devo dare, oramai per scontato, che ci siano alti standard qualitativi, altrimenti non vai da nessuna parte. Insomma, la qualità, soprattutto nell'automazione, è fondamentale. Fondamentale, ma oramai il percorso è già compiuto, vorrei dire. Non è che bisogna tornare indietro, assolutamente, ma è già estremamente elevato. Casomai bisogna poi, dalla qualità, parlare di efficienza, risparmi energetici, cioè come riuscire a rendere ancora più veloci le macchine e l'automazione che noi facciamo. Ecco, ma la qualità, non vorrei sottovalutare, è talmente all'interno delle aziende, del DNA. Qualità vuol dire non solo nel prodotto, ma qualità nel come realizzi un'applicazione, qualità nel come realizzi l'impianto. Insomma, credo che questi siano elementi giusti evidenziare nuovamente, anche perché è più l'orientamento sulla parte meccanica, dove effettivamente la qualità, la lavorazione, è di nuovo un elemento vitale. E l'industria meccanica italiana, appunto, è sicuramente una delle eccellenze al mondo. Sono d'accordissimo che la qualità nelle nostre aziende, nel mio settore, ma sono sicuro anche del vostro, fa parte del DNA. e la qualità che un'azienda italiana nel nostro settore produce non ha nulla da invidiare a un'azienda tedesca, giapponese o quant'altro. Per esperienza personale, forse anche la meccanica, bisogna sempre però ricordarsene, perché se stai una settimana senza lavorare sulla qualità, senza insistere con i tuoi collaboratori sulla qualità, iniziano i problemi. Per un'azienda come la mia, per esempio, poi che si sta anche internazionalizzando di recente, per cui quello che facciamo noi dobbiamo portarlo in paesi come l'India, la Cina o quant'altro, questo diventa ancora più pressante e più importante. Cosa possiamo fare insieme? Io innanzitutto credo che la mia azienda, la qualità, l'ha soprattutto imparata, per cui anche a livello di qualità la conoscenza è l'aspetto fondamentale. La conoscenza di un comparto di 100 aziende è importante, se metti insieme tre associazioni che dialogano su questi aspetti, per cui 300 aziende con la propria esperienza, può essere sicuramente importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.